De Longhi, con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 8.6 su 10. Questa è la nostra scelta migliore. Si propone come una delle migliori soluzioni per qualità prezzo, è realizzato con ottimi materiali e una qualità decisamente sopra la norma. Se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo, clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Il voto finale assegnato dalla nostra redazione a questo prodotto di De Longhi è di 8 su 10. Al momento è il più esclusivo di questa selezione. Si rivela una soluzione più che buona dalle ottime prestazioni e, come testimoniano le recensioni, risulta essere molto apprezzato dagli utenti che lo hanno già acquistato. Se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo, clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video. Questo articolo di De Longhi ha riscontrato una valutazione di 8 su 10 totali. Risulta al momento essere il più scontato di questa selezione. I punti di forza sono. Comodo, controllo remoto, calore, ottimo rapporto qualità prezzo, livello del rumore. Se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Il voto complessivo assegnato a questo articolo di De Longhi è di 8.4 su 10. È il più desiderato. Questi sono i suoi punti di forza. Stile, comodo, controllo remoto, calore, livello del rumore. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video.